Ho sempre praticato sport, dall'età di tre anni ero residente a Limone Piemonte che è un paese qua vicino ed è una stazione sciistica, quindi la prima cosa che fanno i bambini a tre anni è mettere gli sci ai piedi, ho praticato lo sci alpino. La velocità, lo spostamento dei pesi, l'affrontare comunque gli ostacoli fanno parte di tutti e due gli sport. Quello che mi attrae dallo sport come lo sci e la moto in fuoristrada è il senso di libertà che ti danno. Io mi sento veramente libero nelle due situazioni e questo probabilmente è quello che mi ha spinto ad andare avanti con questa passione. Innanzitutto con l'enduro l'ho praticato per dieci anni, poi nel 2000 un amico mi parlò delle baja e delle gare che si correvano in Spagna. Questo campionato era super combattuto perché era nato negli anni 80 dall'esigenza dei piloti spagnoli di allenarsi a gare e a rally poi più importanti come la Dakar o rally dei faraoni. E questo ha fatto crescere molto il mio livello di pilotaggio e mi ha dato la possibilità di vincere due campionati in Spagna nel 2004 e nel 2006 e allora correvo per Suzuki per correre il campionato europeo e il campionato italiano. Ho vinto nel 2008 e nel 2009 entrambi i campionati. Il 20 dicembre del 2010, il giorno del mio occidente, mi ricordo come una giornata assolutamente normale. Partivo con il numero uno in gara perché avevo vinto il campionato europeo l'anno precedente. La zona si correva a dudine sul tagliamento, me la ricordavo bene perché ci ho corso tanti anni, quindi era iniziata come una giornata assolutamente normale e con i migliori aspici a livello di sensazioni sulla moto. Ci doveva essere una pietra più grande o uno scalino di roccia che io ho preso in pieno con la moto e la sfortuna ha voluto che al posto di catapultarmi verso l'alto io sono rimasto agganciato alla moto e ho fatto da 160 chilometri a zero in 4-5 metri. Picchiato con la testa sul gretto del fiume e ho rotto tutte le vertebre dalla seconda vertebra cervicale all'ultima dorsale per compressione. Però l'ultima cosa che pensavo era quella di salire su una moto, anche perché quando subisci una lesione spinale il problema principale è gestire l'equilibrio. Perdo la sensibilità a livello dell'ombrevico, non sento il peso del mio corpo sotto il sedere, quindi le prime volte che mi hanno seduto sul letto il mio incubo era infilarmi un calzino, infilarmi una maglietta, una t-shirt, non riuscivo a stare in equilibrio sul letto. Pensa a gestire l'equilibrio su una moto. Allora io ho incontrato Vicker, il titolare di Vicker per caso, ad una fiera, il Rehacker di Dusseldorf, che è la fiera più importante in Europa per i materiali e gli ausili per i portatori d'handicap. Girando per la fiera, a combinazione, lo stand della Vicker era vicino al nostro stand, ho visto i cuscini. Per me era la soluzione totale, perché l'aria è il miglior veicolo per non avere danni sulla cute. Il problema dei cuscini tradizionali è che se tu fori una palla, un guscio, essendo tutti collegati, alla fine il cuscino si sgonfia. Vicker è la soluzione totale. Posso forarne uno, posso romperne uno, ma ci sono gli altri che subentrano all'uso. Combinazione, il proprietario della Vicker, un appassionato di moto, venì nel nostro stand a vedere la moto e mi disse guarda il cuscino te lo facciamo noi su misura e provalo. Ho tenuto il cuscino per tre anni e lo ho testato in tutte le condizioni. Tutte le gare, dal 2014 sono tornato in Nevada, in Baja California, a correre la Baia 1000, la Baia 500, la Vegas Turino. Nel 2015 tutta la Coppa del Mondo Baia e nel 2016 di nuovo in Baja California, senza aver nessun problema sul cuscino e soprattutto sulla mia pelle. e così sono diventato il, penso, il miglior testimonial di questo prodotto che per noi è per me fantastico. Immagina l'usura che puoi avere su una moto, che è cento volte tanto rispetto all'usura che ho sulla carrozza. Il sogno che avevo, comunque già quando camminavo, era di fare quello che sto facendo comunque adesso. Quindi di mettere a disposizione l'esperienza di anni nella gestione delle gare, sia come pilota che come team manager, al servizio di altre persone. Quello che sto facendo ora, oltretutto, non è solo correre, quindi il mio obiettivo non è solo essere un pilota e andare alla Dakara. E facciamo delle scuole, delle scuole di pilotaggio, sia per persone normodotate che per portatori di handicap. Quindi quello che volevo realizzare da normodotate l'ho realizzato comunque da portatori di handicap.